siamo di fronte alla cappella besozi lei la definiva un capolavoro si la mano è tutta di bernardino per la maggior parte degli affreschi ed è una cappella che vuole celebrare come gran parte della chiesa quello che è il ruolo femminile all'interno della storia della storia di cristo della storia religiosa il committente besozi che era lo zio di polita sforza è inginocchiato e orante quindi prega verso cristo flagellato protetto accarezzato di nuovo da santa caterina d'alessandria rappresentata secondo quello che è il suo attributo classico dell'iconografia tradizionale quindi la ruota dentata e subito nella parete di sinistra la si vede mezza nuda inginocchiata mentre prega e viene salvata dall'intervento dell'arcangelo michele da quello che doveva essere il suo martirio il suo supplizio maciullata attraverso queste ruote dentate che per volere di questo marito rifiutato capriccioso l'avrebbero dovuta distruggere e uccidere la santa si presenta in primo piano con dietro questi corpi in scorcio che ricordano mantegna che ricordano tutta una lezione di pittura veneta che sicuramente bernardino luini aveva assorbito in quel momento suo formativo che a noi è poco noto se non per alcune opere che hanno un carattere prettamente veneto però santa caterina d'alessandria non si salva e dall'altra parete quella a destra si vede una nobile donna inginocchiata pronta purtroppo a ricevere il colpo d'ascia del boia che la decollerà e in quest'opera è fondamentale fare due riflessioni la prima è sull'impostazione spaziale un'impostazione spaziale dove il paesaggio è importante tanto quanto gli attori della scena quindi tanto quanto santa caterina quanto il boia quanto gli astanti coloro che assistono al suo martirio e quindi è un paesaggio che bernardino apprende dalla suo trascorso veneto e da quello che è il suo contatto con l'opera leonardesca leonardo grande scopritore della natura e di come la natura condizioni l'uomo di come l'uomo dialoghi con essa e la seconda riflessione che possiamo fare è proprio nel volto di santa caterina inginocchiata a pregare poco prima di morire noi ne notiamo le fattezze e le fattezze si distinguono da quelle dello stesso personaggio visto all'interno della cappella le fattezze di santa caterina nelle altre scene sono più simili a quelle delle sante idealizzate che abbiamo visto precedentemente questo è un ritratto dal vero invece quello della decollazione e chi è molto probabilmente bernardino vuole fare un omaggio ad una nobile donna francese bianca maria di chaland decapitata ingiustamente sulla piazza del castello sforzesco poco prima era stato poco prima che lui dipingesse questa scena era stato un episodio che aveva molto colpito l'opinione pubblica anche perché questa donna accusata di alto tradimento nei confronti del governatorato francese era poi risultata essere assolutamente innocente e quindi santa caterina martirizzata ingiustamente da le la e l'input per parlare di politica per parlare di società per contestualizzare ancora il questo episodio in un momento più vicino a quello della vita dell'artista